72 morti sul lavoro nel Lazio nei primi 8 mesi dell'anno contro i 60 del 2023. Un dato che allarma con un aumento che si riferisce soprattutto alla capitale dove le vittime sono passate da 35 a 55 nonostante campagne, appelli e leggi. Gli infortuni sono sempre ogni giorno sempre di più, purtroppo anche quelli mortali. Ogni giorno è veramente un estremicidio di persone che subiscono infortuni nel mondo del lavoro. In occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro se ne è parlato in Campidoglio. Abbiamo analizzato i dati, è vero che purtroppo non sono buoni, però è anche vero che si basa su una quantità di lavori molto ma molto superiore. I protocolli firmati dal Comune di Roma con le imprese per la sicurezza dei cantieri del Giubileo hanno abolito i subalpalti a cascata. Valgono le parole del Presidente Mattarella, cioè è una ferita e un'offesa per la nostra coscienza collettiva ogni vittima sul lavoro. Sono leggermente in aumento nel Lazio anche i numeri delle denunce per infortuni o 26.000, soprattutto per le malattie professionali, oltre 4.000.